Ciao a tutti carissimi amici ed amiche, benvenuti in questa nuova lezione di letteratura, in cui riprenderemo ancora una volta a parlare di Tasso, ma oggi in specifico parleremo più della sua opera più importante, che si intitola Gerusalemme liberata, che nelle anteriore lezioni avete sentito nominare. Ehi a 15 anni scrive Gerusalemme, che però non porta a termine, già che per un ragazzino di 15 anni è un'opera davvero troppo complessa, troppo complicata. A 31 anni decide di riprendere e la intitola all'inizio Goffredo di Buione, ma non la pubblica, come vi ricorderete delle anteriore lezioni. Lui la dà invece ai suoi parenti e ai suoi amici per assicurarsi che l'opera non sia peccaminosa. I amici dicono che quest'opera va bene, ma lui non si fida, lui non ci crede che vada bene, è tormentato che quest'opera in qualche maniera possa indurre lui nel peccato, possa essere peccaminosa. Le prime edizioni sono datate rispettivamente nel 1581 e nel 1584 e sono delle edizioni clandestine, già che i suoi amici, senza il suo consenso e a sua insaputa, la pubblicano col titolo di Gerusalemme liberata. Poi lui riscrive questa opera quando esce dal carcere nel 1593. La Gerusalemme è conquistata, cambia il titolo, che è un'opera totalmente diversa dal punto di vista stilistico. Bisogna sapere che nel periodo in cui lui scrive c'era uno scontro fra cristiani e turchi. I turchi dunque costituivano un pericolo imminente, già che avevano tolto l'isola di Cipro ai veneziani, avevano assediato Venezia e quindi minacciavano l'intero occidente. Nel 1571 ci fu la prima grande vittoria dei cristiani nei confronti dei turchi, dei musulmani, durante la battaglia di Lepanto. Dunque, lui inserisce questo entusiasmo nella sua opera, indicando la forza dei primi crociati, dei cavalieri di Carromagno, affermando che loro riuscirono a battere ai musulmani. I musulmani grazie a quell'entusiasmo, grazie a quella forza, grazie a quella passione, grazie a quella fede che i soldati e i signori del Cinquecento non avevano. E afferma che noi dobbiamo combattere così come fecero loro. Cioè, noi, indicando, diceva che in quel periodo tutte le persone dovevano combattere, tutti i guerrieri dovevano combattere così come fecero loro, giacché in quel periodo si doveva liberare Gerusalemme. E quindi, questo è il senso della Gerusalemme liberata. Lui vuole dare dei insegnamenti attraverso i quali spingere gli eroi e i paladini cristiani a comportarsi come i crociati. E tali per cui combattersi per la fede. Come vi ricorderete dalle interrogezioni, è ambientata durante la prima crociata. E durante la liberazione del santo sepolcro. A quell'epoca i turchi si allearono con i francesi di Carlo I contro l'imperatore Carlo V. Tasso vede questo come una cosa mostruosa, perché un re cattolico non si può alleare con i musulmani per combattere contro un altro re cattolico. E folle, giacché i musulmani nella seconda metà del Cinquecento rappresentavano un pericolo per tutta l'Europa. E dunque non ci si poteva alleare con loro. Queste sono le motivazioni storiche che spingono Tasso a comporre la Gerusalemme liberata. Anche qui, così come la battaglia di Lepanto è stata vinta grazie all'intervento divino nel Cinquecento, Dio è ancora qui con noi e ci si deve battere per riportare lo spirito di crociata. I personaggi sono tutti tormentati come Tasso, loro volevano amare ma dovevano ubbidire a Dio. Loro volevano vivere in un mondo pastorale, in un mondo pieno di serenità, in un mondo pieno di pace, ma erano costretti a combattere. Tutti tranne uno, ovvero Goffredo di Buione, che era il capitano della causa cristiana. Goffredo era un uomo senza paure, senza macchia. Infatti l'Arcangelo Gabriele va proprio da lui per dirgli di combattere insieme al suo esercito, per liberare Gerusalemme. L'Arcangelo Gabriele va da lui perché è l'unico che non si lascia ingannare e tormentare dall'amore. Qui l'amore è visto come un peccato, infatti c'era la maga Armida che faceva innamorare i guerrieri attraverso un sortileggio demoniaco. E quindi affinché questi guerrieri non andassero a combattere. Dal punto di vista linguistico, Tasso ha una grandissima influenza nella storia della letteratura italiana, già che crea una lingua barocca, crea una lingua musicale e utilizza anche la metafora barocca e le figure retoriche per formare, per creare una lingua nuova e viva, anche se adotta il monolinguismo come quello di Petrarca. Carissimi amici, adesso ci siamo avvicinati alla conclusione di questa lezione, spero che vi sia piaciuto questo video e se è così mettete like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Adesso ci vediamo nella prossima lezione, vi saluto e vi auguro una splendida giornata a tutti voi che mi ascoltate e vi ringrazio per la vostra attenzione. Ciao a tutti, ciao da Fausto!